Musica Salve a tutti ragazzi e ragazze dal vostro Dark Chaos 92 Oggi siamo qui con questo bellissimo gioco Chiamato Zula Europe Quindi Europa Stiamo parlando di un gioco, quindi un FPS Spara tutto Dove praticamente bisogna uccidere Praticamente un po' simile a Counter Strike Global Offensive Ma questo direi che è molto 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 più bello Siamo in compagnia di un nostro carissimo amico di nome Federico Ciao E oggi dovremmo fare una piccola partitina Per vedere un po' il gioco, com'è situato Quindi com'è strutturato E vediamo un po' la situazione Vediamo un po' Andiamo nel server 4 Federico Ok Ok, perfetto Allora Io creo la sala E la chiamiamo Dark Chaos 92 Andiamo un po' Facciamo 1 vs 1, no? Sì Sì, dai, 1 vs 1 Mettiamo 10 minuti di partita E quanti kill mettiamo? Boh, mettiamo 200 kill Ok Perfetto Unisci da partita in corso Mettiamo no Mettiamo una password La password è YouTube Ok, creiamo Vedete anche la scena ragazzi Quando crei la partita Cioè, è bellissima Cioè, è bellissima Ci sto io Al centro della sedia Cioè, è stupendo Guarda che se ti muovi di posto Cambi personaggio Ah sì Carino Aspetta che ti aggiungo gli amici Intanto Ok, perfetto Quindi Io metto il pronto Mettilo pure tu E dovremmo iniziare Ok Io Sì, iniziamo con l'M4-1 Va Guarda l'arma consigliata È l'M468 Ah, è carino come gioco Io già l'ho provato Infatti come potete vedere Già l'account È tutto Quindi Eh È bello È bello È bello Ecco Ci troviamo in una nave Go 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 Ecco Go 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 Perfetto Non si può correre O sì No Utilizza il cortello per correre Mi è arrivata una bomba Non so dove Carino Dov'è? Dov'è? Ecco lì Vediamo un po' dove è andato È giusto È giusto È giusto È giusto È giusto che dobbiamo Perdere così Vabbè Lui gioca da più tempo di noi ragazzi Quindi Mi sa che ha pure il premium Chi è il premium? No No Dove sei? Oh Oh Ma che è tutta questa confidenza? Eh Si prende troppa confidenza sto tizio Non ci siamo No 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 Un'altra nuova cosa ragazzi Le armi si uffano Revenge Eh Vendetta Ragazzi Vedete pure la figata assurda che io devo Aspetta un attimo che Opzioni Devo mettere la sensibilità un po' più alta Salva Ok Ecco così già ci siamo Dai E non esce Ah Eh Eh beh Si è preso pure il cecchino Vabbè Vendiamo il cecchino Ok Dove sei? Eh? Dove sei stranzetto là? Dov'è? 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 Vediamo un po' Dov'è? Eh Io Io raga Non so giocare tanto bene Eh Adesso l'abbiamo preso però Eh Eh Cioè Scusa Eh Anni anni di CS Di Counter Strike Global Offensive Oh 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 Non lo vedo più Donna mia l'avevo preso raga Dov'è? L'ho preso L'ho preso Dopo il kill Eh? Non mi ha sparato Eh Cominciare il Rosic ragazzi Cominciare il Rosic Non mi ha sparato Madonna mia Che Ma che ho fatto? Oddio Mi sono Ma Eh Quello ragazzi Quello Mi sono suicidato Quello Vediamo un po' Oh oh Che so tutti sti bombarda No 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 L'avevo misto male Ragazzi Dove cacchio è Allora O sono Cieco io raga Oppure non lo vedo Dov'è? Eh Certo Dopo mezz'ora che lo guardo Ovviamente lui mi fa headshot Ed è giusto No? È giustissimo Giustissimo Vediamo un po' Dove stai? Guardi forse lo intravisto Prega No Oh Eh Da dov'è che spara? Eh Adesso non c'è più È scomparso Madonna mia Mamma mia Eh Non lo piglio Manco Dai Spunta Mamma mia Per quanto regalo Ma Per pelo Ma Per pelo Mamma mia Tu cacchio è? No E io No 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 Sto ricaricando Gioco di Perché mi carica Quando devo sparare Mannaglia Oh porca miseria Dov'è? Nervoso Eh All'inizio è così Poi con quel cecchino Fa schifo Madonna mia No Eh raga Io Ci devo prendere la mano Vabbè Naturale Ci devo prendere la mano Perché c'è La meccanica del cecchino Comunque è come quella di Se cosa Non sbaglio Donna No Barca di quella Eh Eh vabbè Eh Che cacchio Che cavolo Ho failato E che cacchio Eh Cioè Però Cioè È bello Guardate Vedete la Dov'è? Guarda Che adesso Li facciamo No Io Veramente Guarda Io Stavo dicendo Adesso Li facciamo Un Di Lo Lo facciamo Da Dick knife Invece È successo Il contrario Oddio Mi ha fatto Un pelo Oh 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 Dove Cacchio Che mi spara Ma Dove Eh Eh O so C'è 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 È ovvio È ovvio È ovvio È ovvio La cosa Appena Ci prendi La mano Eh Appena Ci prendo La mano Ti faccio Vede Io Poi Lo facciamo Tardala Che poi Il bello È che lui Mi sente Mi viene Dietro Non mi spara E poi Mi accoltella Mamma mia Eh L'ho preso L'ho preso Bastardo È morire C'è merda Guardalo Ok Adesso Lo aspettiamo Qui Fermi Tanto sono Eh Io Lo sapevo Bezzo Io Stavo dicendo Tanto Sono sicuro Che mi viene Di dietro E infatti Quello è successo Perché purtroppo È questa Quando si fanno I video Con queste persone Guardalo Ma non li senti I passi Ma l'ho detto Una ceppa Aspetta Forse No C'era al massimo Il volume Madonna mia Aspetta Dopo Io Do Eh Dopo Impostiamo Meglio Do Stai Do Stai È dietro Ragazzi comunque Scusatemi In anticipo Se non Non ho messo La webcam Perché sto Registrando Il video Minnaggia a lui E quando Vaffanbrodo Il video Con Con un altro Programma E quindi E quindi Dicevo E quindi Dicevo Che praticamente Dato che sto Sto registrando Con un altro Programma Purtroppo Non ho Modo Di mettere La webcam Ma quello Ovviamente È giusto Quello che ha Fatto a lui Perché lui Sente i miei passi Io devo parlare Ovviamente Non sento i suoi E quindi È ovvio Che io vado A morire Come adesso Mi sono un po' Incazzato Dai Dove sei? No io No 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 Ma cacchio è? No Quanto sono stupido Mi sono buttato a mare Ma parca miseria Cioè Ma è pazzesco È stata stupenda La scena È stata stupenda La scena E battena a morire No ma io Ragazzi Il tempo che ci piglio La mano A sto gioco Ve lo giuro Il tempo che ci piglio La mano Tanto lo so Che sei sopra Dove sei? Ha un culo assurdo Sto ragazzo Veramente non è culo È bravura Perché lui ci gioca Già da un bel po' Ho bravura? C'ho un po' più in mano Però neanche so giocato Chiediti Eh Non sta? Eh io lo sapevo Che mi È muore Porca di quel Miseria È pazzesco E io non so Giocare con Con la VP Perché è giusto È giusto Una cosa del genere È giustissima E va bene Va bene così Ragazzi in questo video Non farò tagli Non farò tagli Aggiungerò solo La intro Perché praticamente Cioè Non serve fare un taglio Perché è inutile fare tagli Cioè Quando si fanno video Lo so che peresco Ci muoio Stavo dicendo Eh a volte ragazzi Chi non la devo fare Una volta iniettata Pannaggia Cioè scusa 11-16 Tanto lo so che mi stai dietro Dove sei? No invece sei avanti Va bene Sto rincoglionendo ragazzi È giusto Mancano 10 secondi Oh Oh Questo mi bombarda Fuori No Eh stimi Mi volevi accoltellare Per se è merda Niente ragazzi Ovviamente ho perso Ma ci sta Ci sta Ci sta Io ragazzi Vi ringrazio per la visione Vi ringrazio di tutto Mi raccomando In descrizione troverete Il link per scaricare Zula Sia Uh apri il pacchetto Apriamo il pacchetto Ah materiale Ferro Cromo E titanio Va bene ci sta Ok Comunque stavo dicendo In descrizione troverete Il link per scaricarlo Sia nel sito ufficiale Di Zula Europe E quindi Nella IDC Se non sbaglio Spero di non sbagliare E E poi troverete anche il link Per scaricarlo Su Come si dice Su 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 Steam Su Steam Bravissimo Posso fare anche un consiglio Personale Di scaricarlo tramite Steam Perché regala automaticamente 40.000 Zula All'inizio del gioco Ecco Infatti ragazzi Scaricatelo su Steam Molto probabilmente Come ha detto Federico Vi daranno 40.000 Zula Point Se non sbaglio E ecco Perfetto Quindi ragazzi Io vi ringrazio Per la visione Scusate ancora Se non ci sta La webcam Un bacione Dal vostro Dark House 92 E dal vostro Federico Dal nostro Federico E niente Al prossimo video Ciao belli Ciao belli